La nostra dimensione geografica, noi cerchiamo un po' questi trip geografici, come si diceva. Questo è un brano che è così, vogliamo ripresentare un po' quello che è l'impero ottomano. Quindi facciamo la sigla, poi qualcuno di voi dopo ci parla dell'impero ottomano. Bene? Un po' l'acqua, gli eroi. Un po' l'acqua. Un po' l'acqua. Un po' l'acqua. Un po' l'acqua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.